Un'altra questione, ma chissà se troveremo qualcuno, invece a vedere questa platea così ampia, così qualificata, veramente è una cosa che apre un cuore e rende sicuramente meno onerosa e meno faticosa un viaggio. Io parlerò credo da 15 minuti, anche io non sporerò molto. Se diciamo 20, posso fare 25, poi 20, cerchiamo di essere brevi, ma brevi non può essere solo la parola. Il 1799 è già stato introdotto, è uno snoto fondamentale nella storia, io direi non soltanto italiana, la storia europea. E quindi va trattato, si dei re-studio, come diceva qualcuno molto più famoso di noi. I partigiani, da una parte e dall'altra, lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Siamo attenti, avvertezza, avviso ai davigati, il 2019 sarà il 120esimo anno, quindi ne vedremo delle belle tra chi difende il Cardinale Ruffo e chi difende la Repubblica Napoletana, uno è indivisibile, così come avete chiamato, quindi ne vedremo delle belle. Io, francamente, noi, vi permetto di dire, con l'amico Fernando Di Mieri, anche con Claudio Saltarelli, non ci iscriviamo a questa gara, perché la storia si fa con gli occupanti, si fa analizzando le carte, noi non siamo partigiani, né dell'uno né dall'altra parte, non siamo partigiani, siamo dei tifosi dell'uno né dall'altra parte, perché non è un debito alcistico, per cui noi cerchiamo di tenere la barra del timone a dritta e cerchiamo di vedere le cose come effettivamente si sono sponte. Perché si arriva a questa occupazione giacobina, altrimenti non capiremmo quello di cui stiamo parlando. Si arriva a questa occupazione giacobina del Regno di Napoli di Napoli, perché c'era il disegno, prima del direttorio, che poi successivamente metterà di Napoli una buona parte, era quello di soggiocare l'intero continente europeo. E quindi già nel 1797 Napolione invia l'armata italiana, invadi un ducato romano, il pontevice Pio VI viene praticamente esautorato, rimane prigioniero, morirà in esilio, poveretto diciamo così, perché viene condotto in Francia e poi lì morirà in esilio, di fatto già nel 1797 e il 98, Ciampionelli, Giacobini avevano occupato il ducato romano e quindi controllavano il ducato romano. Questo cosa significava? Significava che c'era un pericolo evidente, perché il ducato romano, stato l'ondificio, confidava con il re di Napoli. Allora che cosa fa Ferdiato IV, che era Ferdiato IV in Borboli? Il re di Napoli ebbe un'idea che all'inizio poteva anche sembrare proficua, invece di aspettare che ci vadolo, attacchiamoli noi. Però sbaglia nella considerazione, purtroppo la diassia Borboglia, e questo mi dispiace dirlo, della scelta dei capi militari, ha sempre avuto parecchi problemi. E ha problemi anche nel 1799, 1798, dicembre 1798, quando sceglie il generale a cui affidare il comando dell'eseggio della povertà. Già allora c'era questa moda dell'esterofilia, non erano quelli di casa, non sono mai troppo bravi, sono meglio quelli di fuori. E allora questo che cosa fa io per Ferdiato, forse consigliato da qualcuno dalla sua corte, sceglie un generale austriaco dal cognome altisonato, era un carlo, Karl, Mark, Folli e Bach. Mi vanno poi i film di fantossi, non ho visto quanto dice questo solo il cognome, incute, timore, reverenziale. Questo effettivamente, questo che era un grandissimo esperto, teorico dell'arte di vita, dell'arte di vita. C'era solo un piccolo problema, non aveva mai combattuto, non aveva mai conosciuto un campo di battaglia, aveva sempre fatto la guerra con i soldati. Mi viene affidato questo esercito, effettivamente all'inizio funziona, perché arriva la Roma senza colpo ferire, perché i championni, che erano generali, giovani, erano molto con attributi, diciamo così, in inferiorità numerica, si era ritirato verso Cina Castellana. Praticamente l'esercito bordeauxico arriva a Roma e conquista il Roma, conquista, entra in Roma senza battaglia. Però che cosa fa Mark? Suddivide il suo esercito in troppe colonne, quindi championni, pur essendo in inferiorità numerica, si rafforza, concentrando una colonna alla lotta e quindi sconfiggia più ripresa al nord di Roma il lento delle truppe bordeauxico. All'ennesima sconfiggia l'esercito inizia a ritirarsi, la ritirata si trasforma in fuga, championni arriva senza colpo ferire nell'alta terra di Valoro, quindi a Carma, un passo da Napoli, nel frattempo il re e la corte si trasferiscono, ci mettono in salvo a Palermo e championni, dopo aver stipulato un armistizio in cui che praticamente esagiva la resa a sparanise, qualche giorno dopo marcia con il suo esercito verso Napoli, credendo di avere partita vinta. Non aveva fatto però i conti con una determinata situazione, perché mentre i regnanti borbotici si erano rifugiati a Palermo, mentre Marker si fugge, scappa e si consegna a Caserta ai francesi, mentre il vigario piglia Tegli, viene istituito proprio a aver fermato questa investizione vergognosa e scappa pure lui in Sicilia dai regnanti, quindi si mette in salvo, chi non scappa? Sono i Lanzari, i Lanzari napoletani, che sono gli unici in quel momento che diventano gli eroici difensori di Tegli. C'è un conflitto ferocissimo, un paio di giorni, al ponte della Maddalena, a Porta Caguara, muoiono più di dieci di la Lanzari, combattendo le gruppi Schampiotè, lo stesso Schampiotè ha parlato di Goccio per quelli che chiama questi diavoli che addirittura salgono sugli strati dei calaveri per cercare di ritardare l'avanzata dei soldati. Giacobini era l'eserchio più potente del mondo, quindi nonstante questo eronismo Schampiotè si insegna a Napoli, nel frattempo un gruppo di patrioti cosiddetti napoletani, un gruppo di patrioti napoletani dichiara, issa sul Castel Sant'Emo il vessillo della Repubblica e quindi c'è la proclamazione di questa Repubblica napoletana, una indivisibile, il cui primo presidente è un certo Carlo Lauberg che è di teano. C'è una considerazione da fare, che mentre i Lanzari eroricamente cercavano di contrastare i Giacobini, i patrioti dall'alto di Castello Sant'Emo e di Castello di Napoletano bombardavano le spalle di Lanzari, quindi determinato la fine della resistenza. La Repubblica napoletana, quindi nasce il 23 gennaio del 1799, ma è un libro, perché è un libro? Perché non è riconosciuto neanche dal direttorio francese, e perché non è riconosciuto al direttorio francese, perché il direttorio non voleva che dei paesi occupati dalla Francia ci fossero delle forme di autonomia locale, i paesi che dovevano essere occupati dalla Francia erano i granai della Francia, quindi dovevano essere sfruttati, dovevano essere depredati, si doveva razziare e portare tutto a Parigi. Tanto è vero che Jean-Joté pagherà questo suo atto di generosità, tant'è vero che viene immediatamente richiamato al direttorio a Parigi, viene incarcerato, viene sottoposto a processo, poi riuscirà a scancionarsi, fuorirà l'anno dopo in maniera molto giovane con il combattimento. I rappresentanti della Repubblica napoletana che vanno a Parigi per parlare con il direttorio e con Napoleone non vengono neanche ricevuti. Quindi ecco la storia di fatto, quando si parla e si indecchiano i valori della Repubblica napoletana si dovrebbe riuscire a dire che questa pseudo Repubblica non è stata mai riconosciuta dal direttorio, quindi anche per i francesi era non solo fastidiosa ma era anche illegale, se direte, anticostituzionale. Fatto sta che i francesi, i giacobini napoletani, i francesi si instauravano a Datovi mentre i sovrati morbonici si erano ritirati in Sicilia. E qui in Sicilia, io vado molto così alla larga perché vedi dove riuscireva a concludere, in Sicilia si materializza questo strato personaggio, lui parlava certamente di veri prima, e chi era questo personaggio? Era il cardinale Fabrizio Ruffo, a partire da una doppia famiglia calabrese, strano il fatto che era cardinale senza essere sacerdote, allora era ammesso insomma, però è un uomo che aveva dato ampia prova della sua valenzia, della sua prudenza e della sua efficacia amministrativa, già a servizio di Papa Pio VI, l'ha detto già Fernando Di Vieri, lui si rese protagonista in una serie di riforme, penso alla cultura intensiva dell'Ulivo, alla cultura intensiva della vite, penso alla regolamentazione degli approfiggionamenti della città eterna che era un eterno problema di Roma, indicandosi i conservatori romani, tant'è vero che il pontefice, pur riconoscendo le sue intubbie qualità amministrative, è costretto a promuoverlo e quindi per defenestrarlo, lì dicevano promuovevano tutta poi avvano, quindi mandato in alto colpo una persona che si chiamava di torre e quindi si levavano parecchie rogne. Non tutti sanno, per esempio, che Fabrizio Ruffo, il cardiato Ruffo è stato il primo che ha iniziato a modificare la patuta di Contina, la patuta di Contina dove oggi c'è Latina, Tempo Vittoria, che poi sarà prosciugata durante il periodo del fascismo, quindi pochi anni, pochi decenni o soli. Il cardiato Ruffo ha un'intuizione geniale e propone che si chiamava corte. Ma perché voi aspettate che vengano i Giacobini in Sicilia e quindi vi state lambiccando il cervello su come fortificare le coste dell'isola? Attacchiamoli, andiamo noi all'attacco. Al che? Sì, noi vogliamo anche farlo. Qual esercito? L'esercito borbotico non c'è più. Non vi preoccupateci il cardiato Ruffo. Guardirò io, inizierò io, partendo le mie fedeli calabresi dove avevo un forte ascendente in Calabria. E così succede, l'ha detto già Fernando Di Vieni, parte con 4-5 collaboratori tra cui a Messina si aggiunge Pedro Masi che è l'estensore di questa cronaca. a Mileto costituisce il campo, piano piano allestisce questo esercito a cui partecipano ex soldati, sbandati, contadini calabresi, artigiani, conteggiati, insomma tutti quelli che vedevano nell'esercito, nell'invasione dell'occupazione di Giacobina una minaccia per la loro stessa esistenza. Ma qual è l'intuizione geniale del cardiato Ruffo? È quella di contrapporre la croce al simbolo cristiano dell'eccellenza all'albero della libertà che era il simbolo pagano dell'eccellenza. I francesi vedendo in Italia, già lo hanno fatto l'avvocato Romano e lo rifavano anche nel Regno di Napoli, praticamente devastano le chiese, le trasformano in stalle di cavalli e si accadiscono soprattutto contro la croce, contro il simbolo cristiano dell'eccellenza. E mettono in tempo di questo stranissimo simbolo che è l'albero della libertà. Sotto l'albero della libertà si mangiava, si beveva, si cantava, si faceva l'amore, insomma ci si sfogliava, e in questi momenti si beveva, si sbocciava. E' evidente che il cardiato Ruffo deve contrapporre il simbolo della croce al simbolo del pagatissimo per l'eccellenza che era l'albero della libertà, fare un po' quello che aveva fatto Costantino a Ponte Livio proprio quando il crociardo ne hanno rimagato in massenza, il più famoso è la visione notturna, no? Signor Vinces, e quindi lui, Costantino, essendo molto chic da un punto di vista, e forse non essendo proprio cattolico, lui non aveva. Però capisce che quello è il simbolo vigente, è un po' per fare una cosa attraverso. Oggi chi diventa tifoso della Juve, è facile essere tifoso della Juve, tanto vince segno, quindi andando, facendo al segno. Scegliendo la croce il cardiato Ruffo a partita vita. A partita vita perché contrapporre i valori del cattolicesimo e del cristianesimo al pagatesimo imperante dei Giacobini. Risale questa, inizia non da gennaio, quindi non solo sei mesi, perché parte, sono variati il 13 di febbraio, 13 di febbraio dal campo triccerato, quindi dal 13 di febbraio arriva il 13 di giugno a Napoli, quasi senza colpo ferire, ci saranno le scarabucce ad Andria, ad Altamura, insomma, però l'unica sono quattro mesi, non valerà così. Questo tragitto, quindi è necessità che nella non facile impresa di metterci meno di garibaldi, quindi questa è già una cosa da un record, da Gittes nei primati. Al 13 di giugno arriva alle porte di Napoli, qui c'è l'unico vero scontro con i repubblicani a due tagli, al punto della battalera c'è una battaglia ferocissima, il generale Wilts, che era già quello dell'esercizio borbonico, passato dall'altra parte, e quindi si impossessano di Napoli, rimangono solo i rocchi, ancora le mani dei francesi, però prima della fine del mese anche questi ultimi francesi si eravano e quindi Napoli ed il regno diventa di nuovo della malattia borbonica. Certatino non è vero che l'operazione fu facilitata anche dal fatto che i francesi avevano iniziato già ad abbandonare a puntate successive del regno di Napoli, perché erano chiamati in Lombardia dove la coalizione austro-russa di Suvaroff li aveva già sconfitti un paio di volte, quindi loro avevano bisogno di tutti gli effettivi per contraporsi a questa coalizione austro-russa. E quindi il compito del campionato di Ruffo risultò più facilitato, anche se non bisogna diminuire l'impresa, che rimane tale. Cioè, siccome il cardeale Ruffo, lo si diceva prima, lo diceva anche per tant'anni miei, sul cardeale Ruffo è stata montata una leggenda negra, è evidente che si diminuisce anche l'impresa, però a proporzioni invertite, a squadre a campo invertite, se il cardeale Ruffo fosse stato all'altra parte sarebbe stato un eroe ad Avantini, invece noi siamo stati a San Lucido, proprio a presentare questo libro, San Lucido in Calabria, che è il paese all'area del cardeale Ruffo, e dove ci siamo acconti, inizialmente, almeno con un certo ostracismo, per poi sciogliersi, perché la storia si fa, cominciamo con i documenti, e quindi poi alla fine sono inconfutabili, quindi non è che si possa perdersi troppo in chiacchi. riconquistata Napoli e lei qualche tempo dopo torna, non subito perché aveva ancora paura della distabilizzazione, cominciano i problemi, cominciano i problemi perché c'è la fase nera, questa sì, forse, della restaurazione Borbonica. Restaurazione Borbonica che il Ruffo voleva impostare in maniera diametralmente opposta da quella in cui poi si è materializzata. a lui voleva, era per la clemenza, era per la blandizia. La corte regge, invece, soprattutto la reggita, Maria Carolina, istigata soprattutto da Orazio Lezzo, l'ambocato dell'ambirano inglese, fu per la legge del Taricone, fu per usare le maniere forme. Non dimentichiamo un'altra cosa, altrimenti non costestualizziamo. La reggita di Dato di Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV, era la sorretta di quella Maria Antonietta, che nel 1692, 93, nel 1693 era stata ghigliottitata, quindi teneva molto quel suo modo, diciamo così. Quindi, perché poi oggi, va giocando oggi, a distanza indagliata, noi possiamo anche platerare, dire, dare dei giudizi che poi non sono assolutamente condivisibili. Fatto sta che si decide di usare le maniere forme, che vengono costituire le cosette giunte di scrutinio, che erano dei tribunali speciali, e vengono messi apporti, 99 patrioti, cosiddetti patrioti, napoletani, Eleonora, D'Alfonzeca, Cirilo, Pagano, e tutti quegli altri, che noi troviamo scritti, Caraccio, Pagano, Mirario, Galaccio, il primo. C'erano pure molti cilettari. Molti cilettari, quindi qui riportiamo tutto l'epoca dei 99, i 99 martiri, cosiddetti alla Repubblica, del mese del 99, sono quegli stessi martiri, tra le pochette, e quei trovati scolpiti, incisi su quelle lastre, che trovate nel monumento, a Piazza dei Martiri, a Napoli. C'erano anche due donne, quindi una è Eleonora Piemontel-Fonseca, giornalista, poetessa, che era stata, che aveva diretti durante il periodo della Repubblica, da Voletano, di un moditore da Voletano, e c'era anche Luisa San Felice, che forse con il 1799 c'entrava un po' di Cavo Cameret, era più protagonista di un fetillon amoroso, era una donna molto disinvolta, che concedevano le sue grazie, una notte ad un Borboni, una notte ad un Giacobbino, alla fine, si sono trovati impicciati, non si sono dire, è venuta fuori in un gioco, è capitata in un ingranaggio, molto più grosso di lei, che rimane allo strido male. Però, alla fine, sono 99 persone, che vengono messi a morte. Si poteva comportarsi diversamente? Secondo me sì, non da un punto di vista giuridico però, perché dal punto di vista giuridico le condatte sono stati irreprensibili, perché lì si trattava di alto tradimento, si trattava di soffertimento della monarchia per ristaurare la forma repubblicana, quindi le leggi dell'epoca non erano indulgenti a tal proposito. Condannavano con la pena di morte tutti questi che si erano resi protagonisti di un attentato alla forma di governo. Il cardinale Ruffo non ha molto apprezzato la cosa. Lui, fino alla fine, ha tentato di salvare il salvabile perché lui era un bimbo che usando le blandizie si riuscisse a realizzare una sorta di pacificazione liberale. Alla fine però anche lui deve cedere la mano perché viene ancora addirittura il rischio di essere arrestato. Ci sono delle lettere inquietanti che la regina Maria Carolina invia a un istro Acton in cui quasi gli ordina di arrestare il cardinale Ruffo, ma anche lui si vede un po' costretto a fare marci dietro. tanto quanto è vero che qualche mese dopo, infatti nel settembre del 1699, lui abbandona il regno di Davoli dove pure che era stata Davoli con l'orifica prestigiosa e molto repubblica e torna di nuovo nello Stato del Pontificio e si mette a servizio del pago. Quindi secondo me poteva essere usata una maggiore credenza nei confronti dei cosiddetti patrioti abbonetari che poi è proprio il cavallo di battaglia dei repubblicani giacobini odierni che dicono sì ma effettivamente lì avete decapitato il fioffione dell'intelligenza abbonetaria. Al di là del fatto che io non credo che l'intelligenza abbonetaria sia schierata tutta la parte di Giacobini ma abbiamo questi esempi di cui parlavi che ci dimostrano esattamente il contrario. Però io voglio chiudere per momento questo discorso perché poi voglio fare una questione finale dicendo ma ci siamo mai chiesti in tutti questi quattro mesi ovvero sia dal gennaio del 1799 al giugno del 1799 quante persone che stavano dall'altra parte hanno perso la vita? C'è un signore mai chiesto? Io credo di no. C'è una fonte straordinariamente importante di cui parlava Giuseppe Peschio da prima che si chiamano libri mortuoni. Se voi vi evitate di andare nelle chiese e di vedere i libri mortuoni che si riferiscono al 1799 sono rottanti di sangue. Guardate io assieme a Claudio Saltarelli abbiamo fatto proprio quest'anno uno studio su quello che è accaduto nel 1799 nell'Alta Terra di Lavoro. L'Alta Terra di Lavoro sarebbe quella parte che va da San Germano di Erra Cassico dove vediamo noi fino a Sovra, quindi ai confini con la Forza. Ebbene, lì abbiamo trovato in una parrocchia di Isola di Lavoro che il giorno, il 12 maggio del 1799 i Giacobini ammazzano 537 persone. 537 persone, i cui 350 soltanto nella chiesa di San Lorenzo dove i Giacobini si erano rifugiati credendo di avere salvo alla vita. Sul versante del Tirreno a Castelfolo che è traietto ne vengono uccisi altri 350 ad Andria dove siamo stati altro giorno vengono truccitate altre certitarie di persone. Allora voglio dire io ma se guardiamo i martiri da un lato dobbiamo guardare pure i martiri dall'altro perché poi queste persone che vengono truccitate così sono veramente persone innocenti che niente avrebbero a vedere con la contraposizione politica. Guardate io cito sempre i tuoi episodi che mi hanno veramente destato raccapisce ad un piccolo comune nella provincia di terra di lavori si chiama Atice le pressi di sopra nello stesso giorno vengono ammazzate due persone uno è tra le tante vengono ammazzate due persone uno si chiama Filippo Vanducci e aveva 90 anni 90 anni ma questo è ancora più grave questo che vi sto per dire viene ammazzato ad un bambino un Leonardo di cui non si conosce il nome e il parro non lo importa e dice soltanto che è il figlio di tale Luigi Cerviglie sapete perché? perché il nome lo aveva quando era stato ancora ammazzato che viene ammazzato dai Giacobini mentre era cito testualmente l'adorazione del matrimonio ad ubera matris mentre stava prendendo il latte materno dalla matrimonio allora io dico ma questo Filippo Vanducci ha un zilo dolante e questo bambino in pochi settimane ma quale minacce potevano costituire per i Giacobini? allora io penso che soprattutto nel bambino che andriamo ad inaugurare almeno speriamo ci vuole un po' più di equilibrio allora è vero la reazione borbonica è stata è stata dura è stata forse giusta è stata giusta ma è stata dura e inflessibile però quello che hanno fatto i Giacobini Claudio Saltarelli io sono arrivato e mi pare che stai facendo vedere un costo con la Mandea oppure noi nel nostro paese abbiamo avuto una specie di Mandea e quello che è successo in Mandea nei quattro mesi degli iniziati dal mio senso è stato giusto